I recenti fatti di Corinaldo e Strasburgo riaccendono il dibattito sulla questione sicurezza in relazione agli eventi che enti e privati organizzano in piazze e locali chiusi in vista delle imminenti festività natalizie. Tra concerti di piazza e cenoni di Capodanno anche quest'anno non mancherà il modo di scegliere come divertirsi tra la gente, ma è inevitabile che le cronache degli ultimi tempi abbiano condito con un pizzico d'ansia il menu di queste feste. Per la verità l'attenzione delle forze di polizia su questo fronte è sempre ai massimi livelli, anche quando non si verificano fatti di cronaca che scuotono l'opinione pubblica. A tal proposito il questore di Pescara Francesco Misiti fa il punto della situazione sulle misure messe in campo nell'area di maggior concentrazione in Abruzzo per a quel che riguarda gli eventi di massa. Gli aspetti connessi alle misure di sicurezza legate al terrorismo è chiaro che l'attenzione anche alla luce delle indicazioni dipartimentali è massima. Abbiamo dei protocolli che rispettiamo per le attività in corso come prevenzione e su questo ormai è già da tempo che siamo sul territorio e quindi non c'è alcun incremento da fare perché l'attenzione è massima. Chiaramente connessa a quelle che sono le esigenze locali, territoriali. Per gli aspetti connessi alle festività natalizie è chiaro che abbiamo incrementato i servizi di controllo del territorio, soprattutto essendoci più circolazione di denaro in questo periodo, legata ai reati predatori. Quindi abbiamo pattuglie in borghese e pattuglie in divisa che presidiano il territorio, d'indesa anche con le altre forze di polizia. E su questo diciamo che anche qui l'attenzione è massima. Ulteriore attenzione come questore e quindi come autorità provinciale di pubblica sicurezza sto ponendo per gli aspetti connessi agli eventi natalizie. Mi spiego meglio. Per gli eventi di piazza è chiaro che l'indesa col comune che dovrà individuare la location dove fare gli eventi saranno predisposte delle misure di sicurezza imponenti. Ma dettate non vostro altro per il richiamo che può avere l'ospite che sarà qui il 31 sera. Quindi su questo dovrà decidere il comune quale location individuare e alla luce di quello poi ci regoliamo con le misure. Un discorso a parte merita il capitolo riguardante gli eventi nei locali al chiuso ed è qui che il questore si mostra ancora più intransigente. Non permetterò che ci siano più biglietti rispetto alla disponibilità dei posti e dei locali. Proprio domani avrò una riunione con il gestore dei locali, delle discoteche, nonché con le altre forze di polizia e i vigili del fuoco proprio per individuare un piano di intervento anche di indesa con gli organizzatori che mi pare di capire hanno tutto l'interesse a che tutto si svolga nella maniera più serena possibile. Va da sé che ci sarà anche un intervento da parte dei vigili del fuoco nell'attività di controllo e dell'uscita di sicurezza. Quindi per verificare che ci siano tutte le condizioni a che un evento si possa svolgere in assoluta serenità. Grazie a tutti.